L'Abruzzo raccoglie i primi risultati concreti dell'iniziativa di internazionalizzazione dell'agri-food sostenibile di qualità portato avanti da mesi dalla regione per mano dell'Arap. Per quattro giorni una delegazione di 29 importanti buyers manager del ricco mercato arabo operanti nel settore degli ipermarket, dei grandi alberghi, degli autogrill, delle catene di ristoranti e dell'intrattenimento sono in visita nelle quattro province abruzzesi in una missione che fa parte di un progetto partito nei mesi scorsi ed entrato nel vivo grazie alle spedizioni della regione Abruzzo all'Expo di Dubai e a Bruxelles. L'attività di oggi quindi la visita della delegazione una delegazione nutrita e soprattutto autorevole perché il governo diciamo saudita insieme ai suoi rappresentanti del mondo della distribuzione della grande e piccola distribuzione e i rappresentanti soprattutto degli operatori economici quindi ci sono oggi rappresentanti degli hotel, del catene di hotel e soprattutto anche addirittura dei cuochi quindi dei cuochi sauditi e quindi tutti gli operatori economici che girano ruotano attorno dell'agri-food penso sia oggi una giornata importantissima. È una giornata che noi diciamo valutiamo nel solco delle attività già iniziate in occasione dell'Expo Universale dove l'azienda regionale delle attività produttive è stata delegata dal Consiglio e dall'Aggiunta della regione Abruzzo per rappresentare la regione all'interno dell'Expo Universale 2020. Un effetto collaterale positivo delle missioni fatte nelle settimane scorse quindi una missione assolutamente importante perché è fatta di player importanti che rappresentano la grande distribuzione che rappresentano le grandi catene hoteliere quindi c'è molto spazio e sono anche già rimasti sorpresi dalla qualità dei nostri prodotti che soltanto a pranzo abbiamo diciamo minimamente testato quindi da un punto di vista operativo credo che questa missione di quattro giorni in tutto l'Abruzzo perché saremo all'Aquila, saremo a Teramo, saremo a Chieti e oggi siamo qui a Pescara porterà dei frutti importantissimi. Oggi noi rappresentiamo le migliori case d'Italia, incomincia abbiamo più di 45 prodotti italiani al mio mercato che io li importo direttamente dall'Italia. Noi siamo venuti in Abruzzo per vedere se c'è un'altra opportunità di aprire differenti settori nell'alimentare e speriamo che in questi quattro giorni faremo un grande business, un grande attività e speriamo che in questo momento